AM4 non è ancora finita, AMD ha un ultimo asso nella manica, Steam risponde al fuoco di Rogalai con uno sconto speciale e Asus ha sfornato una scheda video veramente particolare. Queste e altre news nel nuovo episodio di More Than News. Questa settimana devo dire ci sono parecchie news interessanti, alcune piccole, alcune grandi, insomma abbiamo tanta carne al fuoco, quindi iniziamo direttamente. La prima notizia di questa settimana è che nella prossima ci sarà il Prime Day di Amazon, il grande evento annuale estivo in cui trovate tantissime offerte e che ovviamente verrà coperto dai nostri canali Telegram, Bombe Errori, Morden Hardware e Morden Gadget, 48 ore dall'11 al 12 di luglio. Si link sono giù in descrizione così potete iniziare a prepararvi. Abbiamo delle novità riguardo la roadmap di Nvidia, infatti la casa verde sembra essere proiettata verso il lancio della nuova generazione RTX 5000 circa tre anni dopo delle RTX 40, cosa che fa anche presupporre la possibilità del lancio di una nuova generazione intermediaria tra le RTX 40 e le RTX 50, però le nuove 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 vedranno la luce nel 2025, sempre se l'azienda non abbia in mente magari di fare appunto un Ada Lovelace Next, come si era appunto vociferato tempo fa, con un lancio all'inizio del 2025. Ma su questo ovviamente ci sono soltanto indiscrezioni. E Hardware Lux a riportarci la notizia, la testata tedesca, abbiamo soltanto quest'immagine con tantissimo watermark. Vi ricordate quanto è stato disastroso il lancio della 4060T con alcune foto di uno dei più importanti centri commerciali giapponesi che avevano soltanto un singolo acquirente in attesa per la nuova scheda video di Nvidia? Ecco, l'emozione si è replicata anche questa volta con la RTX 4060. Infatti il lancio ha avuto così poco hype che letteralmente parliamo di una persona in fila, sempre in Giappone, ad aspettare la nuova scheda. Devo dire, un po' li capisco, un po' li capisco. Se una persona è da sola in fila, è di per sé una fila? Però sta aspettando. È in fila con se stesso? È una competizione? Scrivetemelo nei commenti. Steam ha deciso di tagliare un po' i prezzi della sua Steam Deck con le nuove offerte estive. Se non avete familiarità con Steam dovete sapere che ogni praticamente stagione ci sono delle super offerte sui giochi. Però, visto che adesso si sono ritrovati ad avere un cospicuo numero di parti hardware, è sicuramente interessante vedere degli sconti anche su queste parti. Quindi stiamo parlando di uno sconto di circa il 10% per la versione da 64GB, 15% per la 256GB e circa 20% per la versione da 512GB. Questi sono gli sconti per quanto riguarda l'Europa, quindi scendiamo a 377, 466 e 543€ in base alla versione che scegliamo. Personalmente di tutte queste prenderei la 512GB, onestamente, visto il peso dei giochi. Persone con schede madre AM4, preparatevi a gioire e poi a bestemmiare quando saprete dell'ultimo processore sfornato da AMD per questa piattaforma. Infatti, nonostante i Ryzen 7000 siano ormai in circolazione da parecchio tempo, AMD ha deciso di fare un lancio esclusivo in collaborazione con Micro Center per una nuova versione degli X3D di generazione precedente. In questo caso non abbiamo il 5800X3D di nuovo in una versione potenziata o cose del genere, ma viene invece preso di mira il Ryzen 5 ed esce il Ryzen 5 5600X3D. Una versione che a quanto pare è un derivato tecnico di praticamente 5800X andate a male, cioè nel senso con non le giuste caratteristiche per poter utilizzare tutti gli 8 core nella maniera richiesta per diventare un 5800X3D e quindi tagliati per diventare un 5600X3D. Purtroppo il lancio sarà esclusivo in collaborazione con Micro Center, che è uno dei più grandi centri di vendita hardware sul territorio statunitense. Pertanto in Europa non ne vedremo neanche uno, quindi hey, sempre le cose migliori negli Stati Uniti, mannaggia. Le specifiche del 5600X3D saranno leggermente più basse rispetto a quelle del 5600X attualmente in circolazione, con circa 200 MHz in meno per quanto riguarda Base Clock e Turbo Boost. Penso ragazzi che non avrebbe nemmeno senso provare a procurarselo perché alla fine da noi il 5800X3D sta abbondantemente sotto i 300€ per il più del tempo e quindi è difficile, insomma, dargli un significato che porti qualcuno a voler sostenere le spese di dogana, importazione, trasporto e tutto quanto per ritrovarsi con un processore che alla fine sì, magari performa bene, ma per il qualità prezzo è assolutamente sballato, quindi non mi gaserei e non cercherei di prenderlo, a meno che non arrivi per via traversa ad un prezzo interessante in Europa, ma non lo farei come utente singolo, se non per collezionismo. Asus ha lanciato una 4060T che personalmente trovo molto interessante e al tempo stesso molto sconsiderata dal punto di vista ingegneristico. Questo che vedete qui, il loro ultimo capolavoro con tanto di donnina anime cibi sopra, è niente di meno che una 4060T con attaccato uno slot per un SSD. È veramente interessante dal punto di vista teorico perché mi sono ritrovato con una build all'interno dell'ITY60 che effettivamente avrebbe bisogno di un altro slot SSD e non posso installarlo perché li ho finiti tutti e non posso neanche montare espansioni, quindi una cosa del genere mi tornerebbe particolarmente utile devo dire perché alla fine è un SSD in più, però dal punto di vista ingegneristico un pochettino mi spaventa perché come potete vedere è situato sì nella zona meno calda del dissipatore, ma comunque direttamente sopra le lamelle che andranno ad affrontare le temperature di questa scheda video. Tuttavia c'è da dire che con la 4060T stiamo parlando alla fine di una scheda da 150W e come ci viene dimostrato, penso che avessero pensato a questa cosa, nei test rimane sotto i 42 gradi che per un SSD è una temperatura più che ideale nonostante appunto il lancio di un power virus come firm Furmark per appunto aggredire tutto quanto mentre l'SSD stesso performava un test in Crystal Disk Mark. Sarebbe ora di vedere componenti che montino appunto altre componenti a bordo in maniera da ottimizzare gli spazi. Molto molto interessante. Per una build ITX sarebbe veramente super figo. A un utente sul Reddit non andava genio la capacità di archiviazione della ROG Alay e quindi ha deciso di farsela da solo. Quanto ne ha messa? 4TB, esattamente. 4TB ovviamente in una maniera assolutamente non corretta, nel senso che è stato infilato a forza con un po' di spacca, attack, reattacca e cose del genere, colla ovunque e come potete vedere dopo una simulazione del mostro di Frankenstein rifatta all'interno della ROG Alay è riuscito a montare un SSD M.2 di misura 2280. cioè in full size fondamentalmente con capacità di archiviazione di ben 4TB. Questi sono i risultati in fase di scrittura e come potete vedere c'è la capacità finale che è effettiva. Insomma, se volete modificare in maniera molto aggressiva la vostra ROG Alay sappiate che in un modo o nell'altro ci entra un M.2 full size. Anche se personalmente vi sconsiglierei di farlo. Distruggete la garanzia e distruggete anche un po' la vostra console. Però, bello esperimento, molto interessante. Stanchi di ricordarvi le password? Con l'ultima preview di Windows 11 sembra essere stata introdotta finalmente la possibilità di fare la compilazione mediante dati biometrici della maggior parte delle password anche su siti esterni alla piattaforma di Microsoft. Quindi direttamente nei siti potrete loggare esattamente come facciamo con i Mac, direttamente con l'impronta digitale o alternative che siano state autorizzate dal sistema operativo. Molto molto interessante da questo punto di vista perché onestamente semplifica di tanto l'operazione di accesso a varie cose e ovviamente anche un layer di sicurezza extra quando si trattano le proprie password. Queste erano le news per questa settimana. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi sezati su MordenTech, salamusa. Sapevi che MordenTech non si ferma solo su YouTube? Infatti ogni giorno trovi guide, tutorial e articoli sul nostro sito mordentech.it, le migliori offerte di internet nei nostri canali Telegram e tanti, tanti, tanti altri contenuti su Instagram e TikTok. Link in descrizione. Noi ci vediamo.